La produzione è alla ricerca dei protagonisti di un nuovo film dalla trama improbabile. Un uomo di Afragola scopre che suo cugino ogni volta che viene colpito violentemente in testa dice numeri casuali che risultano sempre vincenti sulla ruota di Napoli. Durante il casting il primo dovrà percuotere senza scrupoli la detta del secondo per ottenere i numeri vincenti della lotteria. No! È un Pope! È un Pope ortodosso! Buongiorno, che luca! Ti ho detto? Che volti interessanti! Puoi fargli dire? È la mia ascia! È la mia ascia! Come il nano Gimli! Io sono il nano Gimli! Io sono il nano Rimmie! Gimli! Gimli! Sono Alessandro! Dai il megafono ad Alessandro perché non lo sentiamo! Sono Alessandro! È inamplificabile! Non si amplifica! Scusi, scusi, scusi... Mettiti al posto su e prova! Prova Paolo, vai! Allora, vi spiego brevemente la storia. Allora, il film si chiama 7x712. Quanto fa 7x7 veramente? Quanto fa 7x7 veramente? Come? Quanto l'ora? Ci abbiamo messo solo 25 secondi per la tabellina del set. L'altro, i numeri che vengono dati dal fratello quando viene colpito in te... Non stanno capendo niente. La particolarità è che tutti e due i fratelli si chiamano Gianni per scelta di nero nero. Quindi tu sarai il fratello avido. Ok? Mi fai la faccia dell'avido? Fammi la brutta persona. Mi fai schifo, sputagli. Sputagli. Sputa, sputa. Ti dì, io faccio schifo. Io faccio schifo. Sta solo verso l'alto e beccati un occhio. Beccati un occhio, beccati un occhio. Bravo, ancora, ancora. Sputagli, faccio schifo. Che, tra l'altro, l'occhio è buono ed è un schifo. Tu sei tranquillo a casa che ti stai levando i capperi dal naso. Fai entrare in una sedia, lo fai sedere sulla sedia e gli fai togliere una scarpa e una calza. Ok, un piede dentro l'aceto. Ah, ah, com'è balsamico. Sai che gli alieni sono arrivati, hanno analizzato lui e tornano fra un milione di anni per lo schifo. Come senti? Infrangere il piatto. Ah, 5, 4, 21. Ci siamo? Urra, urra. C'è schifo, faccio. Due, otto, sette, quattro. Prego. Faccio schifo, faccio. Schifo, faccio. Schifo, faccio. Schifo. Due, due, su quarta, otto. Bravo, bravo. Ora ho avuto voglia per un attimo di spaccargliela io in testa alla bottiglia, tant'era convincente. Anzi, scusi, le dispiace se lo faccio, tanto oramai... Ma come sì? Ma no, direi di no. Scusa, no. Ragazzi, andiamo di là a spaccargli in testa qualsiasi cosa, tutti insieme, tutta la produzione. Dove? Faccio schifo. E lui continua a dare i numeri? Lui ha dato i numeri di nuovo. Tu hai spaccato una bottiglia in testa a un povero cristiano umiliato. È una merda. Lo voglio fare anch'io però. Dove? 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 Grazie.